Oggi nasce questa nuova avventura, naturalmente è un'avventura coraggiosa, abbiamo deciso di partecipare come noi esistevamo già, come cambiamo sostenuto il movimento di Giovanni Totti, abbiamo deciso di partecipare a questo progetto che ha un'aria, un respiro più nazionale proprio perché crediamo che sia il momento di crescere, di essere inclusivi, di investire nei giovani, nella società civile e quindi con tutti i valori che ci hanno sempre contraddistinto e quindi partecipiamo con tanto entusiasmo a questo nuovo progetto.